Ciao, sono Alessandro e sono di Modica. Io faccio il parrucchiere, sono qua a divertirmi, ci sono un sacco di amici e anche oltre a divertirmi sono qua per fare tanta amicizia e votatemi, tutto qua. Ah, perché dovemmo scendermi? Perché sono comunque un tipo molto socievole, disponibile, oltre a quello un bravo ragazzo, che sono pochi comunque a essere come me. Tutto qua. Ciao.